SuperTone con variazioni di velocità, un workout completo e impegnativo per tonificare tutta la muscolatura del corpo. Iniziamo! Ok, iniziamo. Circonduzione delle spalle in avanti, vai. Circonduzione controllate, scaldiamo bene tutto il corpo, sia la parte alta che la parte bassa. Prima di iniziare questo super workout. Vamos! 5, 4, 3, 2, 1, rotazione oraria più skip, vai. Respiro, naso e bocca, sempre respirazione, vai con lo skip e con la rotazione. Ancora, esercizio successivo, circonduzione spalle indietro. Tra 3, 2, 1, cambio. Circonduzione delle spalle dietro, vai. Scaldiamo bene tutta la parte alta, respiro. Esercizio successivo, skip più rotazione anti-oraria. Ancora 3, 2, 1, skip e rotazione anti-oraria, vai. Respiro, salgo bene in skip. Esercizio successivo, spinte indietro. Ancora 10 secondi, vai. Respiro, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Spinte dietro, 2 spinte e cambio braccio, 2 spinte e cambio braccio, vai. L'espirazione, scaldiamo bene tutto il corpo. Esercizio successivo, torsione del tronco. 3, 2, 1, cambio. Torsione del tronco, vai. Torsione a destra e a sinistra. Non forzare il movimento. Andiamo ad attivare e riscaldare tutto il corpo progressivamente. Esercizio successivo, step touch. Respirazione. Ancora 3, 2, 1, cambio. Step touch, vai. Ci spostiamo a destra e a sinistra. Attiviamo le braccia nel movimento. Respiro, vai. Ci prepariamo alla discesa fianchi al ginocchio. Tra 3, 2, 1, cambio. Vai. Discesa sui fianchi all'altezza più o meno del ginocchio. Non forzare. Respiro. Esercizio successivo. Spinta una gamba solo da un lato. 3, 2, 1, cambio. Mezzo squat e spinta solo su una gamba, solo da un lato. E poi dopo cambiamo dall'altro lato. Vai. Respiro. Ancora 10 secondi. Scaldiamo bene anche la parte bassa. Gambe, glutei. 3, 2, 1, cambio. Vai. Dall'altra parte. Vai. Mezzo squat. E piccolo slancio laterale. Esercizio successivo. Spostamento laterale. Mano al piede opposto. Ancora. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Allargo bene le gambe. Piego. Mano al piede opposto. Vai. Respiro. Scendo bene. Slancio al gluteo. Tra 3, 2, 1, cambio. Vai. Slancio del gluteo. Tocco e spingo. Solo da un lato. Iniziamo ad attivare il gluteo. Vai. E poi cambiamo il lato. 10 secondi. Respiro. Sempre respirazione. Gamba leggermente piegata. 3, 2, 1. Cambiamo lato. Dall'altra parte. La gamba dietro tesa. La gamba che non lavora leggermente piegata. Vai. Attiviamo il gluteo. Esercizio successivo. Mezzo squat veloce. Respiro. Vai. Vai. 3, 2, 1. Cambio. Allargo le gambe. Allargo le punte. Mezzo squat veloce. Respirazione. Vai. Vai. Non ti fermare. Scaldiamo bene anche la parte bassa. Vai. Esercizio successivo. Movimento pectoral senza peso. 3, 2, 1. Vai. Movimento pectoral senza peso. Respiro. Attiviamo le braccia. Pettorali, spalle. Allargo bene. E chiudo. Gomiti in linea con le spalle. Vai. Ancora 3, 2, 1. Recupero attivo. Iniziamo dallo squat il nostro super workout. Andremo ad eseguire due ripetizioni normali e due ripetizioni un pochino più lente. Iniziamo tra 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Due ripetizioni normali e due più lente e controllo. Normali. E più lente. Massima attivazione di gambe e glutei. Vai. Lente. Normali. 3, 2, 1. Recupero attivo. Cambiamo esercizio. Alzate laterali. Gomito a 90 gradi. Sempre con la tecnica. Due normali e due lente. Piediamo le gambe. Opposizione. 3, 2, 1. Vai. Iniziamo con due normali. E due lente. Così. Due normali. Vai. E due lente. Controllo. Vai. Normali. E lente. 3, 2, 1. Recupero attivo. Appoggiamo i pesetti. esercizio successivo. Esercizio successivo. Affondo laterale. A destra e a sinistra. Allarghiamo le gambe. Due normali e due lente. 3, 2, 1. Vai. Normali. Lente. Controllo. Vai. Normali. 1, 2. Lente. 1, 2. Ancora. Vai. Lente. Controlla. 3, 2, 1. Recupero attivo. Tricipi di un braccio. Respiro. Andiamo in posizione. Mano che non lavora sul ginocchio. Blocco. Partiamo con le due normali. Poi le due lente. 3, 2, 1. Normali. E lente. Controllo. Vai. Normali. E lente. Cerchiamo sempre di cambiare la velocità. Normali. E lente. E controllo. Ok. Recupero. E passiamo dall'altro lato. Tricipiti. Un braccio. Vamos. Due normali. Due N. E due lente. Due L. Andiamo in posizione. 3, 2, 1. Vai. Normali. Lente. Controllo. Anche la discesa. Normali. E lente. Vai. E continuo così. Vai. E lente. Controllo. la discesa. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Passiamo allo squat. Squat completo. Due normali. Due lente. Attiviamo gambe e glutei. Allargo le gambe. Allargo le punte. Andiamo in posizione. Respiro. 3, 2, 1. Vai. Due normali. E quelle lente. Controllo il movimento. Vai. Ancora. Normali. E lente. Controllo. Massima attivazione. Delle fibre muscolari. Vai. Normali. Controllo. Lente. 3, 2, 1. Recuperativo. Spinte in alto. Continuiamo con questa tecnica. Respiro. Pieghiamo le gambe per non scaricare il peso sulle spalle ma a terra. Posizione. 3, 2, 1. Due spinte normali. E due lente. Controllo sia la salita che la discesa. Piego le gambe. Normali. E lente. Controllo. Vai. Normali. E controllo lente. 3, 2, 1. Recuperativo. Appoggiamo i pesetti. E ripartiamo con il nostro esercizio successivo. Squat completo. Sempre due. Velocità di esecuzione. 3, 2, 1. Vai. Normale. E lento. Controllo. Discesa. E salita. Normale. E controllo. Lento. E lento. Vai. Cambio velocità. 3, 2, 1. Recuperativo. Riprendiamo i pesetti. Siamo al secondo giro. Alzate laterali. Gomito a 90 gradi. Piego sempre le gambe. Addome forte. Braccia a 90 gradi. 3, 2, 1. Vamos. Normale. E lento. Controllo. Massima attivazione. Cambio. E lento. Vai. Respiro. Ancora. E ricambio. Lento. 3, 2, 1. Recuperativo. Cambiamo esercizio. Affondo. Laterale. Destra e sinistra. Respiriamo. Allargo bene le gambe. Allargo le punte. In esterno. Andiamo in posizione. 3, 2, 1. Vai. Normale. Lento. Lento. Controllo. Normale. Lento. Vai. Cambio ancora. E rallento. Controllato. Vai. 3, 2, 1. Recuperativo. Un pesetto. Per i tricipiti. Su un braccio. Respiro. Andiamo in posizione. Blocco il gomito. Ed estendo. Due normali. Due lente. 3, 2, 1. Iniziamo sempre con le due normali. E poi. Due lente. Vai. E cambio. Lente. Respiro. Normali. E cambio. Lente. Vai. Ancora. Non ti fermare. E rallento. 3, 2, 1. Recuperativo. Sciogli. Cambiamo braccio. Tricipiti. Un braccio. Dall'altro lato. Scendiamo in posizione. Gomito bloccato vicino al fianco. 3, 2, 1. Iniziamo. Due normali. E due lente. Controllate. Vai. Normali. E due lente. Controllo. E andiamo avanti così. Vai. Lente. E normali. 3, 2, 1. Recuperativo. Ritorniamo sullo squat completo. Sempre in due velocità. Rimaniamo in movimento. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Due squat normali. E due lenti. Controllo. Ancora. E lenti. Vai. Massima attivazione. Gambe e glutei. Ancora lenti. Controllo. 3, 2, 1. Recuperativo. Ci prepariamo alle spinte in alto. Respiro. Piego le gambe. Spinte in alto. 2, 2. Due normali. E due lente. 3, 2, 1. Iniziamo con le normali. E poi rallento. Con quelle lente. Vai. Normale. E lente. Respiro. Vai. E rallento. Controllo. Sempre il movimento. La tecnica. Recuperativo. Appoggiamo i pesetti. Passiamo alla mobilizzazione della colonna. Inarchiamo e incurviamo. Per allungare e fare un buon stretching a fine workout. 3, 2, 1. Vai. Respiro. Piano piano. La testa accompagna un movimento naturale. Vai. Inspirazione. Esercizio successivo. Stretching della gamba. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Stretching della gamba. Vai. Salgo. Collo del piede. Talone al gluteo. Mantengo la posizione di stretching senza forzare equilibrio e respiro. 10 secondi e poi cambiamo lato. 3, 2, 1. Lascio. Piano piano. Dall'altra parte. Vai. Talone al gluteo. Posizione di stretching. Respiro. Esercizio successivo. Stretching della spalla. 3, 2, 1. Lascio piano. Vai. Stretching della spalla. Braccio teso. Con la mano accompagno in assistenza sul gomito. Non forzare il movimento. Tieni giù la spalla. Depressa. Mantieni la posizione di stretching e respira. Esercizio successivo di varicata frontale. Tra 3, 2, 1. Cambio. Allargo bene le gambe. Di varicata frontale. Scendo piano. Dove arrivo. Mantengo la posizione. Scarico la testa e respiro. Non saltare mai. Né il riscaldamento. Né lo stretching post workout. Sono fondamentali. 5, 4, 3, 2, 1. E fissami piano piano. Ci siamo. Il tuo allenamento è finito. Ci vediamo al prossimo allenamento. Sempre in forma con FixFit. Vamos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501